Sì, benvenuti a entrambi, voglio chiedere, è appunto la promessa che volete fare ai quali del Napoli, perché molti sono delusi per la campagna affistica, c'è stato se aspettavano qualcosina in più anche dopo la cessione di Guagliarema, vi sentite pronti a promettere qualcosa di concreto, perché qui anno dopo anno si vuole crescere, si punta la scelta, ragazzi, non direi che ci nascondiamo. La promessa è quello che mi sento di fare, quello che io c'ho dentro, quello di dare il massimo, il massimo rispetto alla maglia che indosso, sono grato per la fiducia che mi è stata data, quindi la promessa è quello di dare il massimo, il non allenamento per cercare di star bene e vincere le partite, quella è l'unica promessa che si può fare. Poi come gruppo cercheremo di soddisfare quello che vogliono tutti i tifosi, di portare Napoli qui in alto possibile. Ci sono le condizioni per farlo? Sì, sì, ci sono le potenzialità e le condizioni per farlo. Sono pienamente d'accordo. Ripeto, essendo giovane e non avendo tanta esperienza, prima potevo pensare ad allenarmi, ad adattarmi bene qui e poi conoscendo le mie potenzialità, se poi riesco a raggiungere una continuità fisica, mentale, posso dare una gamba. Grazie.